fino a che abbiamo visto questo. Questo è il nucleo della galaxia M87 e questo è la prima immagine di un black hole. Per prima cosa chiediamoci, che cos'è un buco nero? Ci sono naturalmente vari modi di descrivere questo tipo di corpi celesti. Possiamo immaginarci un buco nero come una zona di universo nella quale noi possiamo entrare tranquillamente ma dalla quale poi è impossibile uscire. Questa zona di universo è racchiusa all'interno di un orizzonte, il cosiddetto orizzonte degli eventi. Una cosa importante da capire è che l'esistenza di questi strani corpi celesti, cioè dei buchi neri, è prevista dalla teoria della relatività generale, sviluppata da Albert Einstein più di 100 anni fa. Si tratta della teoria fisica, cioè del modello della realtà, che noi abbiamo a disposizione e che ci spiega nel modo migliore in assoluto la gravità, quindi l'interazione gravitazionale, che noi tutti i giorni proviamo. Si tratta quindi di una teoria fisica molto importante, appunto della migliore descrizione che abbiamo della gravità. Oltretutto questa è la teoria che, approssimata, ci dà la teoria della gravità di Newton, che tutti noi utilizziamo, ad esempio, per mandare i satelliti nello spazio e così via. Quando la teoria della relatività generale venne diffusa per la prima volta, sconvolse praticamente tutto il modo che noi avevamo di vedere lo spazio e il tempo. Si tratta infatti di una teoria che descrive l'interazione gravitazionale, quindi la gravità, come un effetto dovuto al fatto che lo spazio-tempo nel quale noi ci troviamo in realtà è curvo. Naturalmente io sto racchiudendo in questa breve frase un sacco di concetti molto molto complicati. Adesso io in questo video non vorrei addentrarmi troppo nei dettagli tecnici. Trovate comunque qui in descrizione tanti link a vari siti o video in cui vengono spiegati bene questi concetti. Oltretutto io ho girato anche vari video, in particolare ho girato sei video-lezioni divulgative di relatività generale, che trovate in descrizione. All'interno di queste lezioni spiego un pochino meglio questo concetto un po' strano di spazio-tempo curvo. Tuttavia, la cosa importante che vorrei che capiste in questo video è che non stiamo parlando di strane fantasie. La teoria della relatività generale è una vera e propria teoria fisica che gli scienziati utilizzano tutti i giorni per spiegare fenomeni che osservano nel nostro universo. Ad esempio, se noi vogliamo descrivere come due stelle di neutroni ruotano, cioè orbitano uno intorno all'altra, possiamo utilizzare solo la teoria della relatività generale. Se usassimo la gravitazione di Newton sbaglieremo completamente tutto. Oltretutto spieghiamo anche, ad esempio, i comportamenti che hanno le pulsar, oppure vari altri effetti che osserviamo ogni giorno, appunto. Come ad esempio l'effetto di deviazione dei raggi luminosi che noi osserviamo quando guardiamo galassie molto molto lontane, oppure, semplicemente per rimanere in un ambito un pochino più quotidiano, ogni giorno noi quando utilizziamo i GPS stiamo sfruttando degli oggetti che al loro interno devono tenere conto anche degli effetti dovuti alla relatività generale. In effetti la differenza tra la gravità che noi abbiamo qui sulla superficie terrestre e la gravità che si trova in prossimità dei satelliti che ci permettono di utilizzare il GPS viene tenuta in considerazione all'interno del funzionamento dei GPS. Se non tenessimo in considerazione questi effetti dovuti proprio alla teoria della relatività generale, non potremmo far funzionare i GPS, sarebbero troppo imprecisi. Questo per farvi capire che noi stiamo parlando proprio di teorie fisiche che descrivono la realtà in cui tutti noi ci troviamo ogni giorno, anche se nella quotidianità non abbiamo un'esperienza diretta di questa teoria. Dopo questa premessa, secondo me più che doverosa, cerchiamo di capire in che cosa consista il risultato che è stato presentato durante la conferenza di oggi. Come vi dicevo, i buchi neri sono degli oggetti previsti dalla teoria della relatività generale. Tuttavia noi non abbiamo mai avuto occasione di osservare direttamente un buco nero. Questo principalmente per due motivi. Innanzitutto un buco nero, come dice il nome stesso, è un corpo celeste che è completamente nero. Come mai è nero? Vi ricordate quando all'inizio del video vi ho detto che niente può uscire dal buco nero? Beh, nemmeno la luce può uscire dal buco nero. Quindi il buco nero non emette direttamente nessun tipo di radiazione elettromagnetica. Quindi noi non potremo mai vedere direttamente un buco nero. Poi anche questo non è del tutto vero. Effettivamente Stephen Hawking ha scoperto che anche i buchi neri sono in grado di emettere una debolissima radiazione, appunto la radiazione di Hawking. Tuttavia anche lì noi non possiamo assolutamente per ora essere in grado di misurare questa radiazione perché è troppo debole. Quindi al punto a cui siamo arrivati noi, i buchi neri sono degli oggetti completamente neri. Però c'è un'altra cosa da tenere in considerazione. I buchi neri hanno un effetto gravitazionale molto molto importante su tutta la materia circostante. Si tratta infatti di zone di universo da cui non si può uscire proprio perché sono zone in cui la gravità è così forte da piegare lo spazio-tempo così tanto da provocare effetti completamente nuovi. Quindi qualsiasi oggetto che si trovi sull'orizzonte degli eventi del buco nero è costretto ad entrare all'interno del buco nero e non può fare nulla per impedirlo perché si tratta di un processo del tutto naturale, esattamente come noi siamo costretti, se così vogliamo, ad avanzare nel nostro futuro. Però nella zona subito al di fuori del buco nero accadono cose molto particolari e cose che noi in linea di principio siamo in grado di osservare perché si tratta di cose che avvengono qui fuori nel nostro universo, che si trova fuori dal buco nero. Si tratta di fenomeni molto molto peculiari che naturalmente dovrebbero corrispondere, se osservati, alle nostre previsioni che facciamo effettuando i nostri calcoli all'interno della teoria della relatività generale. Questo ci fa capire che osservare le vicinanze di un buco nero ci permetterebbe di capire se la teoria della relatività generale effettivamente è una teoria che è in grado di prevedere fenomeni nuovi che non abbiamo ancora osservato. Quindi diciamo che questo ci permetterebbe di estendere i limiti di validità della teoria stessa. Viceversa, invece, se noi nelle vicinanze di un buco nero osservassimo un qualcosa che andrebbe a invalidare le leggi della relatività generale, noi avremmo trovato dei limiti a questa teoria. E da qui potremmo partire per sviluppare nuove teorie che in qualche modo siano in grado di ampliare la teoria della relatività generale. Arriviamo però qui al secondo dei due problemi di cui vi parlavo, cioè del fatto che noi fino a poco tempo fa non conoscevamo nessun buco nero che fosse abbastanza vicino in modo da permetterci di vedere che cosa succeda nelle vicinanze con livelli di accuratezza di cui avevamo bisogno, proprio per fare questi studi sulla teoria della relatività generale. In realtà noi abbiamo un buco nero che si trova abbastanza vicino a noi. Si tratta del buco nero che si trova nella zona di Sagittarius A, che è una fortissima sorgente di radiazione elettromagnetica che si trova al centro della nostra galassia. Questa importante formazione, che si trova qui a due passi da noi, per la precisione con due passi intendo 26.000 anni luce, è costituita da tre oggetti, di cui uno, cioè Sagittarius A asterisco, è proprio un buco nero. O almeno di questo siamo molto molto convinti. Perché siamo convinti che appunto questo oggetto che si trova al centro della nostra galassia effettivamente sia un buco nero? Ne siamo convinti perché sono state effettuate delle stime molto molto precise sulla sua massa, che in base ai nostri calcoli risulta essere uguale a circa 4 milioni di masse solari, quindi a 4 milioni di volte la massa del nostro Sole. Una volta che abbiamo scoperto quanto vale la massa di questo corpo celeste, ci siamo chiesti quanto sarà grande il corpo celeste, e le stime che abbiamo effettuato ci hanno permesso di capire che il corpo celeste è abbastanza piccolo. Si tratta di un corpo che ha un diametro di qualche decina di milioni di chilometri, quindi un diametro che è minore della distanza, ad esempio, tra noi e il Sole, anzi in realtà è meno della metà della distanza tra noi e il Sole. Quindi si tratta di un corpo con una massa spaventosa, parliamo appunto di 4 milioni di masse solari, che però è racchiuso in un diametro relativamente piccolo. E le nostre conoscenze astrofisiche ci hanno fatto capire che se noi abbiamo una massa così grande racchiusa in un diametro così piccolo, dobbiamo avere per forza un buco nero. Non ci può essere nient'altro, perché se un oggetto così non fosse un buco nero, allora non sarebbe assolutamente un oggetto stabile e si sarebbe già disintegrato molti molti miliardi di anni fa. Quindi Sagittarius A asterisco è sicuramente un buco nero, in base appunto a queste nostre valutazioni. Adesso però c'è un altro problema. Nonostante il fatto che noi siamo riusciti effettivamente a stimare quanto sia il diametro circa di questo buco nero, non abbiamo ancora mai avuto a disposizione della strumentazione tale da permetterci di osservare direttamente questo oggetto con una risoluzione sufficiente. Effettivamente abbiamo detto che l'oggetto ha un diametro di qualche decina di milioni di chilometri, tuttavia è un oggetto che si trova a 26.000 anni luce di distanza, cioè a una distanza che la luce, viaggiando a 300.000 km al secondo, impiegherebbe 26.000 anni a raggiungere. E quando noi abbiamo un oggetto che è così piccolo, relativamente parlando, ma che si trova così lontano da noi, noi non riusciamo proprio a distinguere nelle dimensioni, e questo per motivi puramente matematici, se vogliamo. Effettivamente c'è un teorema, molto semplice in realtà, è una formuletta, che ci dice che più un oggetto è lontano, più noi abbiamo bisogno di avere una lente con un diametro grande per riuscire a distinguere quell'oggetto, quindi a capire che si tratta effettivamente di un oggetto esteso e non di un unico puntino. Per dirlo in modo diverso, se noi abbiamo due stelle a una certa distanza tra di loro, noi riusciamo a capire che si tratta di due stelle e non di un unico oggetto, solo se il telescopio con cui osserviamo quelle due stelle ha un diametro abbastanza grande. Se le due stelle sono molto vicine tra di loro e molto lontane, se noi abbiamo una lente piccola, non riusciremo mai a capire che si tratta effettivamente di due stelle, ma vedremo sempre un unico oggetto, è solo aumentando le dimensioni della lente che noi riusciremo dopo un po' a distinguere le due stelle. Allo stesso modo noi abbiamo questo buco nero, che si trova al centro della nostra galassia, però con i comuni telescopi che usiamo tutti i giorni non siamo assolutamente in grado di andare a vedere le vicinanze di questo buco nero distinguendo tra di loro gli oggetti. Quindi quello che noi riusciamo ad osservare puntando un normalissimo telescopio o radiotelescopio verso questo buco nero che si trova al centro della galassia è semplicemente un continuo flusso di onde elettromagnetiche che però per noi provengono da un unico punto, non siamo in grado di distinguere nulla che abbia una dimensione. Per riuscire ad andare nelle vicinanze di questo buco nero e distinguere gli oggetti che si trovano lì intorno, per riuscire a fare dei calcoli un pochino più approfonditi che non si limitino all'analisi di un unico segnale che proviene da un unico punto, avremo bisogno di una lente che si allarga molti molti chilometri, decine di chilometri, se non migliaia di chilometri. E capirete bene che realizzare un telescopio o un radiotelescopio con un simile diametro è praticamente impossibile. Tuttavia siamo riusciti ad aggirare la cosa utilizzando un trucchetto, un trucchetto che si chiama interferometria a base molto ampia. Si tratta di una tecnica che mette in rete tanti radiotelescopi che si trovano in varie parti del mondo e ci permette di utilizzare questi radiotelescopi praticamente in contemporanea. E facendo ciò è come se noi stessimo simulando il funzionamento di un enorme radiotelescopio che abbia addirittura il diametro della Terra o comunque il diametro pari alla distanza tra i due radiotelescopi più lontani tra di loro. E questo è quello che è stato fatto praticamente dall'enorme progetto Event Horizon Telescope. Si tratta quindi di un progetto a cui hanno lavorato tantissime nazioni in tutto il mondo, dal Cile fino alla Cina, dagli Stati Uniti fino alla Francia. Diciamo che tantissime nazioni del mondo si sono messe insieme e hanno sfruttato radiotelescopi dislocati praticamente in tutto il pianeta. Questo ha richiesto un lavoro molto molto complicato. Per farvi capire solo alcune difficoltà, ogni radiotelescopio in giro per il mondo otteneva tantissimi dati. Parliamo di terabyte e terabyte di dati. Quindi anche qui dopo non c'era una possibilità semplice per inviare tutti questi dati a un unico punto. Quindi poi concretamente i dati sono stati scaricati all'interno di hard disk che con l'aereo dovevano poi da ogni punto del pianeta viaggiare e ritrovarsi in un unico punto. In particolare i dati sono stati raccolti all'MIT negli Stati Uniti e al Max Planck Institute of Radioastronomy a Bonn in Germania. E una volta raccolti da tutti questi radiotelescopi che si trovavano dislocati in giro per il pianeta, i dati sono stati analizzati attraverso dei computer potentissimi per lunghissimo tempo. In effetti, anche se la cosa non è stata pubblicizzata tanto dai nostri organi di informazione, il progetto Event Horizon Telescope aveva come obiettivo anche l'osservazione di un altro buco nero, cioè non solo di quello presente al centro della nostra galassia, ma anche del cosiddetto buco nero M87, che si trova al centro della galassia ellittica Virgo A. Si tratta di un buco nero che è immensamente più massivo rispetto a quello al centro della nostra galassia, si tratta infatti di un buco nero con una massa pari a 6,6 miliardi di masse solari. Naturalmente il buco nero è molto molto più lontano da noi rispetto a Sagittarius A asterisco, si trova infatti a circa 52 milioni di anni luce di distanza, tuttavia la sua enorme massa e quindi di conseguenza anche il suo enorme diametro fa in modo che il metodo di cui abbiamo parlato, cioè la tecnica dell'interferometria a base molto ampia, ci ha permesso di osservare le vicinanze di tale buco nero in modo analogo a come abbiamo osservato le vicinanze di Sagittarius A asterisco. Ed effettivamente, contrariamente a quanto forse alcuni si aspettavano, l'immagine di oggi è relativa proprio al buco nero M87, non al buco nero Sagittarius A asterisco. Quindi la prima immagine di un buco nero che abbiamo visto nella storia dell'umanità è proprio un'immagine relativa al buco nero M87. C'è da dire che i dati che sono stati presentati sono relativi a osservazioni effettuate ben due anni fa, tuttavia ci è voluto molto molto tempo, anche per alcuni imprevisti che sono accaduti, per riuscire a ottenere un'immagine decente. In conclusione, quindi, l'immagine che è stata presentata oggi è l'equivalente di quello che noi otterremo da un enorme radiotelescopio che ha il diametro praticamente del pianeta Terra. Siamo riusciti a lavorare in sinergia con tantissime altre nazioni del mondo, e questo secondo me ci lancia anche un messaggio molto positivo, e in base a queste immagini siamo riusciti finalmente ad avere una risoluzione tale da distinguere oggetti che si trovano nelle vicinanze di questo buco nero. E l'importanza di questo risultato è enorme. Siamo a livello della scoperta delle onde gravitazionali. Cioè noi, dopo decenni e decenni in cui abbiamo raccolto tantissimi indizi sull'esistenza di questi buchi neri, naturalmente anche quella fusione tra i due buchi neri che noi abbiamo osservato un paio d'anni fa è una grossa prova in favore dell'esistenza dei buchi neri. Tuttavia, oggi per la prima volta abbiamo visto un'immagine vera e propria di un buco nero, un'immagine che naturalmente è molto simile a tutte quelle immagini che fino adesso ci venivano presentate e che erano semplicemente delle simulazioni al computer. Tuttavia adesso l'immagine è reale, cioè quella roba lì noi l'abbiamo proprio vista. Ed è un'immagine importantissima perché ci permette di andare a studiare le vicinanze dell'orizzonte degli eventi di un vero buco nero. Quindi per la prima volta noi abbiamo visto un vero buco nero. Poi naturalmente, per ironia delle cose, noi quel buco nero non l'abbiamo visto. Abbiamo visto tutto tranne il buco nero. Effettivamente quello che noi vediamo è solo l'ombra del buco nero. Tuttavia, studiando tutti quegli oggetti che voi vedete lì nelle vicinanze di questo orizzonte degli eventi, noi siamo in grado di verificare con grandissima precisione e accuratezza la teoria della relatività generale di Albert Einstein. E quando parlo di teoria della relatività generale non parlo solo della teoria nella sua interezza, parlo anche di alcuni suoi elementi ben specifici. Ad esempio, quel buco nero lì con grandissima probabilità sta ruotando su se stesso. Ed effettivamente noi all'interno della teoria della relatività generale abbiamo un modello ben specifico che ci descrive come è fatto un buco nero rotante. Si tratta infatti della cosiddetta metrica di Kerr, che a differenza della metrica di Schwarzschild, che invece ci descrive un buco nero stazionario, quindi non rotante, è una metrica che noi non abbiamo ancora effettivamente mai valutato sperimentalmente. Non abbiamo mai avuto delle prove dirette che effettivamente un buco nero rotante rispettasse quella metrica. Lo so, sto parlando di cose abbastanza tecniche. Comunque, come vi ho già detto, se voi andate a vedere quelle lezioni di relatività generale, in particolare la sesta lezione, lì parlo proprio della metrica di Kerr. Quindi magari, se volete, se avete tempo dopo, date un'occhiatina anche a quel video. Comunque, così per riassumere, noi abbiamo che, in questa teoria sviluppata da Einstein, i buchi neri rotanti vengono descritti da una cosa chiamata metrica di Kerr. E noi, per la prima volta, forse saremo in grado di verificare che quella metrica è effettivamente il modo corretto di descrivere la situazione in cui io abbia un buco nero rotante. E questo apre mille possibilità, in realtà, perché quella metrica, la metrica di Kerr, prevede anche l'esistenza, ad esempio, dei cosiddetti wormholes. Adesso, detto in due parole, dal punto di vista matematico, si è dimostrato che, all'interno di questa metrica di Kerr, io posso avere degli oggetti, che sono appunto i buchi neri di Kerr, che però al loro interno hanno una peculiarità, cioè che c'è una cosa chiamata wormhole che li collegherebbe a degli ipotetici buchi bianchi, che si trovano in un universo, tra virgolette, parallelo al nostro, cioè in una cosa che matematicamente viene fuori essere una copia simmetrica simmetrica del nostro universo. Tutti questi sono argomenti molto molto affascinanti, che fino adesso erano praticamente solo speculazione. Tuttavia, trovare che effettivamente questi buchi neri di Kerr esistono, cioè che i buchi neri rotanti sono descritti correttamente da questa metrica di Kerr, ci apre mille altre possibilità, appunto, molto molto affascinanti. Staremo quindi a vedere con grandissima curiosità quali saranno i prossimi risultati che ci verranno presentati da questo grosso e importantissimo progetto. Infatti, come con tantissime altre cose, questa prima scoperta aprirà la strada a tantissime altre scoperte, che ci permetteranno di capire tantissimi altri dettagli sulla struttura del nostro universo e sulle sue leggi più fondamentali. Per adesso vi ringrazio molto per aver guardato. Qui in descrizione trovate tanti link a vari approfondimenti sull'argomento. Cercherò anche di tenere un po' aggiornata questa lista di link, in modo che, con l'evoluzione delle varie notizie, possiate sempre trovare riferimenti aggiornati. Per adesso vi saluto, vi ringrazio per aver guardato. Vi ricordo che io sono attivo anche su Instagram, quindi se volete passate anche da quelle parti. E intanto, ciao ciao, a un prossimo video. Questa è la prima immagine di un buco nero. Questa è la prima immagine di un buco nero.